La vittoria Libertas Pesaro riparte da Pino Sacripanti. In una sala del Consiglio Comunale gremita da addetti e lavori e tifosi, la società Biancorossa ha presentato il nuovo allenatore e l'intero Consiglio di Amministrazione che guiderà il nuovo corso della VL verso una risalita in Serie 1 nel più breve tempo possibile. Sacripanti ritrova Pesaro dopo i due anni positivi trascorsi nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009, consapevole del valore del campionato che la sua squadra dovrà affrontare. È stata una scelta importante perché si è presentata l'occasione con una grande chiarezza e serietà nella programmazione data dalla società. Lo stimolo di venire a Pesaro è per ripartire anche con un po' di foglio bianco sotto un certo aspetto perché come sapete dopo la retrocessione non ci sono più giocatori e quindi bisogna rifare un po' tutto. Questo è stato di grande stimolo. E poi non nascondo che non si vive di solo pane, anche un lato affettivo è stato molto importante. Quando sono sempre ritornato a Pesaro sono sempre stato accolto in maniera molto affettuosa, molto calorosa e questo ha pesato molto. Però l'aver parlato con il Presidente, con il Consigliere dell'amministrazione, l'aver chiarito una programmazione di poter fare il meglio possibile per quello che si possa fare e con la giusta ambizione mi ha spinto, mi ha dato l'idea, la voglia, lo stimolo di una nuova sfida. Partiamo da un ragazzo, da Maretto, che è un ragazzo secondo me molto, non dico talentuoso, però con grande prospettiva e cercheremo nel più breve tempo possibile di mettere almeno i primi puntelli per poter fare la squadra. Una VL che nelle prossime settimane procederà alla costruzione della squadra, sperando che Cincerini e Mazzola possano ancora vestire i colori biancorossi. Ho parlato con Andrea di persona, ho parlato con Valerio esclusivamente per telefono, il tambone non c'è più, gli altri due ragazzi, diciamo che ho avuto con grande piacere un messaggio appena firmato per Pesaro da Leo Totè, però nei torte anni di Visconti hanno dato la disponibilità tramite la loro agenzia di tornare a Pesaro, quindi insomma ne prendiamo atto e cerchiamo di andare avanti. Nuovo allenatore, nuovo CDA e nuovo presidente nella figura di Andrea Valli, che con grande passione e volontà vuole riportare la VL dove le compete. Le emozioni sono molte, nel senso che comunque sia sono un tifoso che vede la VL da quando al Palasport c'erano i tubolari innocenti come è, per cui ne ho vissute di tutte, sia buone che cattive. Speriamo di dare un contributo tutti insieme positivo per far crescere e continuare questa passione che c'è a Pesaro per lo sport e per la palacanestra in particolare. Le motivazioni sono appunto il fatto di poter continuare a seguire questa squadra e a cercare di portarla in un ambito che più le compete per la passione dei tifosi, per la storia, per tutto, che sicuramente la 2 per noi è solo un momento transitorio. Il budget, come dicevo prima, stiamo cercando di fare in modo che quello dell'anno scorso non venga intaccato più di tanto rispetto chiaramente a una discesa in A2 che vuol dire anche main sponsor e quant'altro, una normale riduzione di quello che è. Però il budget sarà quello che sicuramente ci permetterà di fare i play-off e di fare qualcosa in più per lottare, per risalire velocemente.